Musica Ci troviamo con i signori Toracca nel laboratorio di Tagliolo Monferrato. Buongiorno signor Emiglio, ci parli di questa realtà? Noi la nostra dita si chiama Fast & Clean, è dal 1968 che operiamo nel mercato delle lavanderie alla base di tutto c'era la questione delle camicie. La camicia è uno dei veicoli che ci porta anche dall'altro lavoro. Avendo da dover lavare e stirare più di 600 camicie al giorno ci siamo resi conto che ci volevano gli spazi, ci voleva l'attrezzatura e ci voleva anche la possibilità di farle queste 600 camicie al giorno. Abbiamo appena acquistato lo stiracamice Twin che può dare una produzione molto elevata. Questa macchina potrà darci la possibilità di risolvere alcuni problemi sia di qualità che anche però di competitività e soprattutto lasciandoci, dato che ha dei bassi consumi, darci anche la possibilità di lasciare un po' di margine economica. Vedo che per le camicie siete molto ben attrezzati. Usate entrambe le macchine? Sì, perché nel totale delle camicie che facciamo, tre quarti di queste possiamo stirarle con un nuovo manichino doppio. Invece la rimanenza, che sono camicie piccole, particolari o da donna, dobbiamo stirarle con un manichino soffiato come avevamo in precedenza. Facendo un rotale personale manteniamo alta la produttività. Dato che abbiamo cinque recapiti oltre questo laboratorio, abbiamo necessità di ritirare e consegnare i capi nel modo più veloce possibile. Quindi siamo organizzati per ritirarli e consegnarli nel giro di 24 ore. Con il nuovo manichino Twins noi riusciamo a stirare fino a 100 camicie all'ora. Con il Pantamaster riusciamo a stirare 45 pantaloni all'ora. Con il manichino Form Plus riusciamo a stirare fino a 60 capi spalla all'ora. Con la cabina Osoca, infine, possiamo igienizzare a richiesta i capi dei nostri clienti, eliminando così l'odore di fumo o altri batteri che si annidano all'interno del tessuto. Punto di forza è la continua innovazione. Vi trovate sempre d'accordo sulle vostre scelte? Ma ci troviamo abbastanza d'accordo. Infatti anche nel nostro marchio c'è scritto esperienza e tecnologia. Nel senso che non si può guardare al futuro senza guardarsi dietro le spalle, soprattutto nelle lavanderie. C'è proprio la necessità di stare al passo con tutti questi cambiamenti, con delle attrezzature che devono essere moderne, funzionali e devono avere soprattutto un pregio. Quello che devono essere adoperate facilmente dai nostri dipendenti. Nella nostra strada ci ha sempre accompagnato una ditta. L'Appone che ha contribuito a sua volta a darci la possibilità di crescere. Questo è uno degli aspetti, secondo me, da mettere in evidenza, perché L'Appone non lascia mai chi si serve da lei. A metà del guado lo accompagna per tutta la strada che qualsiasi operatore, qualsiasi imprenditore vuole fare. Quindi questa mi sembra una cosa molto importante. Grazie a tutti.